BORUSIA BOYS Pronto e destro d'attacco Palone scodellato dall'altra parte Il tiro in porta Subito Napoli a dire di no su Perescini Terzo corner battuto fuori Uno schema ripetuto diverse volte C'è la parata di Mattia A dire di no Pronto e destro Tiro in porta Ribattuto poi Tafani prova a raggiungere la sfera Riesce Funambolico Tafani riesce a raggiungerla Napoli Ci mette il corpo L'attacco di Baronchelli Che ruba un pallone Come un rapace La falcognanese passa in vantaggio Uno a zero Si ricomincia a giocare da questa parte Baronchelli va via da solo Con il mancino pallone Che viene deviato da Mattia Il tapina viene mancato sul secondo palo Conte sinistro d'attacco Il pallone filtra per Perescini Ora Perescini aspetta l'arrivo di un compagno Ancora Perescini Di punta Mette a posto il risultato Uno a uno Da quella parte Sull'attacco poi di Ferranti Poi fronte destro Tafani è sul secondo palo Il Borussia Boys passa in vantaggio Con Perescini Molto bene C'è Ferranti dall'altra parte Baronchelli va da solo Mattia con i piedi Sulla ribattuta Il tiro Per il gol del pareggio Quando mancano circa 13 minuti Partita riaperta In corsa breve Parte il tiro Uno a zero Battafani con il destro E la mette dentro Baronchelli con il destro Quattro Quattro Tre Ricorsa breve E la mette dentro anche lui Perescini Va con il destro Ancora Rete Parte Zerbinati Rete Lunga rincorsa con il destro Lenzacca anche lui Va Filippini Rete Rincorsa breve Spiazza anche il portiere Marco Perescini contro Napoli E Napoli la para La Falcognanese Raggiunge Il pan dolce In finale